Un cordiale benvenuti all'ascolto da Monsignor Gian Giulio Radivo in studio alla Radio Vaticana per la trasmissione del programma Crocevia della bellezza di questa domenica 1 ottobre 2017 e abbiamo gradito ospite in studio il professor Idemici Tanaka, professore emerito dell'università di Tohoku in Giappone, che è venuto a Roma in questi giorni in occasione di un convegno di cui abbiamo già parlato, l'eredità umana e scientifica di Mario Bussagli, il padre del professor Marco Bussagli, che è qui con noi e che ci accompagna come sempre in queste conversazioni, in queste interviste. Il professor Tanaka ha svolto sabato 23 settembre un'interessantissima relazione dal titolo Leonardo da Vinci e l'estremo oriente. Ma anche il professore ha su questo tema pubblicato un volume anche in italiano e questo direi che è molto importante per noi e ci segnala anche questi rapporti che forse non sono stati da largo pubblico conosciuti a sufficienza fra l'estremo oriente e invece la nostra Italia. Rapporti che risalgono a molto tempo fa e che il professore ha accuratamente studiato, in particolare il libro di cui stiamo parlando è appunto I demici Tanaka, Leonardo da Vinci, sottotitolo L'arte, la vita e il doppio, a cura di Francesco Lizzani, presentazione di Carlo Pedretti, editori riuniti in University Press. Le ho rubato un po' il mestiere, il professor Tanaka, vuole introdurre lei il professor Tanaka così poi facciamo una domanda. Sì, io volevo appunto aggiungere a quanto ha detto già Monsignor Rarivo che il professor Tanaka si occupa in maniera estremamente approfondita tanto della cultura giapponese quanto di quella occidentale. Ha scritto tra l'altro una storia dell'arte giapponese e genealogia dei capolavori in una prospettiva comparata che è uscito nel 2012 a suo tempo. È stato visiting professor nel 1993 all'Università La Sapienza di Roma e nel 2005 all'Università di Bologna. Quindi è molto conosciuto nell'ambiente accademico. Assolutamente. Poi non molto tempo fa, e cioè l'anno scorso, giusto in questi mesi perché finiva in questo momento, forse ricorderete i capolavori della scultura buddista, una splendida mostra realizzata nelle sale della scuderia del Quirinale dove c'erano monumentali sculture in legno di arte giapponese che erano assolutamente straordinarie. Questo per dire che credo che sia una delle rarissime persone che ha una competenza profonda tanto nell'arte occidentale quanto in quella orientale. Ecco, c'è stata questa relazione allora, professor Bussagli, che aveva fatto sintesi degli studi e del volume. Sì, esattamente. Volevo, secondo, ricordare anche un aspetto per dare il senso anche dell'ampiezza cronologica con la quale il professore si muove. Un'ipotesi estremamente interessante è quella per la quale gli affreschi di Giotto di Padova, la Resurrezione di Cristo, portano nelle balze di decorazione dei soldati che sono appunto sotto il sepolcro appena scoperchiato, delle scritture che il professor Tanaka ha riconosciuto di tipo mongolico e legate all'alfabeto Pax Pa. Questo indica una serie di rapporti fra l'Oriente e l'Occidente ben precedenti a Leonardo e che quindi in qualche maniera giustificano bene e come il prosieguo di questo rapporto fra l'Asia e l'Europa, l'Italia in particolare, avesse delle radici molto profonde. E questo lo suggeriva già suo padre, il professor Mario Bussagli, citando proprio il professor Tanaka in un suo studio nell'Art Dossier della Giunti, dal titolo Le grandi invasioni mongoli, in cui appunto ha senso questa scrittura particolare mongolica che avrebbe appunto assunto Giotto stesso nella cappella di Scrovegni. Quindi mi pare qualcosa di un estremo interesse. Esattamente. Il professor Tanaka nel convegno ha puntato l'attenzione sul fatto che tutti sappiamo che il paesaggio della Gioconda, la cosiddetta Gioconda, che è sullo sfondo della figura, ha l'orizzonte diciamo così disassato. In altre parole non c'è un orizzonte unico che passa, ma c'è un orizzonte a sinistra guardando e a destra c'è un dislivello. E allora il professore suppone che il motivo di questa particolarità sia da ricondurre alla visione da parte di Leonardo di Kakemono giapponesi, che sono stati modello in parte del paesaggio retrostante. Ecco, noi pensiamo ingiustamente, sbagliando in genere come opinione pubblica, che i rapporti siano recenti. Invece i rapporti sono antichissimi, come vediamo. E c'è questa meravigliosa scoperta, diciamo così, che il professor Tanaka ha fatto. Ce ne pare lei stesso, professore. Questa attribuzione, cioè al personaggio, in qualche modo, di quella che volgarmente viene chiamata la Gioconda, e che invece sarebbe Isabella d'Este. Ecco, come lei è arrivato a questa conclusione, che tra l'altro quando poi nel libro si vedono le foto, anche se in bianco e nero, di Paragone, eccetera, balza evidente, ma evidentemente bisognava prima accorgersi di questo rapporto. Sì, sì. Professor Tanaka. Grazie, grazie tanto. Veramente l'Italia mi ha fascinato, perché attraverso questa arte, Leonardo, l'arte Michelangelo, l'arte De Giotto. Allora, come senti, abbiamo il senso visibilità, perché in Giappone abbiamo tanto questa storia d'arte italiana, perché veramente è una sintesi di arte di Europa. Allora, io ho studiato soprattutto Leonardo da Vinci, perché Leonardo ama tanto la natura, no? Allora, questo senso natura è molto importante come vita, come Dio in Giappone. E anche il mercato, tanto questo paesaggio, per esempio questo dietro di Mona Lisa, c'è bella vista di montagna, anche questo fiume, tutto questo veramente come... Un passaggio misterioso. Paesaggio come Chinese, Japanese, no? Allora, che cosa questo pensato tanto? Allora, per esempio, suo padre Mario Bussari, scritto un piccolo libro, sulle pittura chinesse. Mostro, paesaggio, tipicamente chinesse, ma somiglia tanto questa dietro, paesaggio dietro di Mona Lisa. Allora, io cercato tanto questa, tanto questo cachemono, cioè dove c'è paesaggio tipicamente cinesi. Ah, questo veramente, forse questa epoca in Italia ha portato tante cose orientali, no? Giovanni Berlini ha mostrato questa porcelena cinese, anche Mantegna, anche. Allora, così, questa epoca ha modo di mostrare cose orientali nei dipinti. Allora, Leonardo veramente era curioso di queste cose orientali. È anche fatto un diario, scritto un diario di Viaggio verso l'Oriente, nel quale, il disegno, si trova questo paesaggio tipicamente alla chinesse, no? Allora, ah, forse lui è curioso, è veramente interessato alla natura, indipendente, così, significa che questo è il macrocosmo, no? Con il microcosmo di Mona Lisa, fatto questo paesaggio dietro, con il macrocosmo, cioè la natura, anche l'universo del mondo. Allora, io credo che in questa epoca, Mantua, Ferrara, Padova, Venezia, questa zona molto cultivata. Perché arrivavano a Venezia anche i mercanti, ecco, certo. Quindi lì era il punto di irradiazione. Sì, sì, con questo forse ha dipinto questo paesaggio dietro la Mona Lisa. Ecco, e la Mona Lisa, dicevamo invece, come Isabella d'Este, e come l'è venuta questa illuminazione, questa idea? Sì, sì, no, questa è, cioè, Gioconda, questo nome, è trent'anni dopo la morte di Leonardo, Basari ha scritto questo nome Gioconda. Solo questo, no? Dice che Leonardo dipingeva Mona Lisa, ma lui portava sempre questo ritratto fino alla fine, dato mai a Isabella d'Este. E quando ritorno dal Milano a Firenze, passato a Mantua per fare il ritratto di Isabella d'Este, questo è sicuro perché c'è documento, si dice, anche Isabella d'Este ha scritto la lettera qualche volta per ottenere questo ritratto che è dipinto da Leonardo. Ma a Gioconda non c'è nessun documento. Forse in italiano ha avuto un po' di fortuna, anche perché c'è questo cosiddetto sorriso enigmatico. E allora la parola Giocondo può voler dire anche sorridente, in qualche modo, no? In qualche, diciamo, paragone, eccetera, della lingua, qualche aspetto. E allora forse per questo ha avuto anche questo a livello popolare, intendo dire. Anche Isabella, anche Mona Lisa, Lisa stesso, no? Sì. Allora Isabella d'Este si chiamava in questa epoca la prima donna del mondo, no? Eh, certo. Allora grande conoscenza anche artistica, anche culturale. Allora con questo motivo Leonardo dipinto questo ritratto con grande rispetto. E allora questa solide, anche tutta questa donna idealizzata in Italia, no? Così... Certo. E l'ha portata anche sempre con sé, anche in Francia. Sì, sì, sì. Perché mai finito, no? Allora questo segno di rispetto per... E anche che piaceva a Leonardo stesso la sua opera, probabilmente. Sì, sì, sicuro. La riteneva un'opera molto ben riuscita. Sì. Ma anche il disegno di Isabella d'Este è sempre al Museo del Louvre combinazione. Sì, sì, sì. Deve paragonare sempre queste due, no? Nel Louvre. Ma ha fatto mai questa cosa. Io paragono così esattamente la stessa grandezza, la stessa qualità e carattere. Allora io credo che questa prova è molto importante che questa donna non è, io conto, ma Isabella d'Este. Può dire Mona Lisa, no? Mona Lisa, sì, perché Isabella è l'Isabetta. Sì, sì, sì. Ecco, è la stessa cosa, quindi Lisa. Sì. Ma anche proprio le proporzioni, come lei evidenzia anche proprio nelle foto, nel suo libro, le proporzioni del capo, del volto, e anche le proporzioni del busto sono... E allora, poiché il professor Bussagli è professore di anatomia, disegno anatomico, allora forse ci può venire come riscontro. Sì, il paragone, il confronto che il professor Tanaka fa mi sembra assolutamente ineccepibile. La proporzione della testa è assolutamente identica. Addirittura la posizione delle mani fra il disegno del Louvre e la gioconda, come la chiamiamo, è identica. E poi c'è un'osservazione acutissima che il professore fa e che in genere nessuno frequenta, diciamo così, e cioè che Vasari descrive la gioconda al buio. Cioè lui non l'ha mai vista in realtà la gioconda. Infatti la descrive appuntandosi sugli occhi, sulle sopracciglia, che in realtà la gioconda non ha. Mentre invece Isabella d'Este, noto al professore, non aveva le sopracciglia perché la moda dell'epoca mi induceva le donne a toglierle. E quindi corrisponde perfettamente in una dimostrazione che mi pare difficilmente confutabile. E poi ci sono anche ritratti successivi di Isabella d'Este che dimostrano come, sebbene registrando, diciamo così, il passaggio degli anni, sono estremamente vicini alla fisionomia di quella che noi eseguitiamo a chiamare per comodità gioconda, ma che probabilmente è invece Isabella. E questo è molto importante anche perché devo dire che sfogliando le illustrazioni di questo volume la somiglianza pare evidente proprio, veramente evidente, al di là di ogni dubbio e di ogni sospetto. Ma è stata anche realizzata in Giappone una cosa straordinaria riguardante Leonardo. Una statua che Leonardo non ha fatto però. Non ha riuscito a fare con bronzo, no? Questo bronzo come materiale è molto pesante, allora forse deve essere 60 tonnerie. Tonnellate. Tonnellate per fare questo grande monumento, no? Però è fatto tanti disegni per fare questo, anche tentato di fare questo, cioè fabbricare con bronzo, no? Però finalmente non è riuscito. Ma adesso c'è altro materiale molto forte come bronzo, questo FRP, questo è inventato anche in Giappone, no? Allora questo è un decimo peso del bronzo. Allora con questo materiale può fare come Leonardo voleva, no? Quindi ha preso i disegni e dai disegni è riuscito a ricostruire in modo tridimensionale il modello della statua. Sì, 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 sì. Con aiuto dei miei amici artisti ha fatto questo disegno, no? E ha grandito quattro volte più l'originale. Così è fatto a Nagoya, venti anni fa così, quando c'è una grande mostra internazionale. E noi non ne sappiamo nulla in Italia, non ci è stato raccontato questo. Sì, gli italiani non si interessano la cosa... Alla realtà giapponese, poco forse, sì. Gli specialisti, ma il grande pubblico meno. Sì, molto meno. Allora io credo che adesso sono in Italia con Marco Vissari. Allora io faccio questa propaganda un po' di... Molto interessante, molto scientificamente anche riuscito a stabilire come forma. Allora io credo che gli italiani anche devono interessare a questo monumento, perché è unico nel mondo con questi cavalieri. solo a Milano, solo il cavallo, solo. Ma questo veramente fatto con cavaliere e di sforza. Allora io credo che si interessa a Leonardo, deve conoscere questo monumento. Forse c'è stato fin troppo interesse invece per le cosiddette macchine di Leonardo, no? Sì, sì, sì. Vere e presunte. Sì, assolutamente. E meno forse a questi aspetti invece molto più interessanti, perché una riproduzione così innovativa, professore, vuole accennare anche lei qualche cosa, un commento. Sì, assolutamente. Tra l'altro con il nuovo materiale si viene a superare il problema dell'equilibrio, perché 60 tonnellate sono difficili da puntellare, invece 6 tonnellate permettono un equilibrio maggiore. Sì. E io volevo sottolineare anche il fatto che il professor Tanaka, si conosceva, ma insomma ha recuperato in quest'ottica anche un meraviglioso disegno di Leonardo della collezione Windsor, che rappresenta un drago cinese. E che è un ulteriore tassello alla dimostrazione di questo interesse di Leonardo nei confronti dell'Oriente. E poi nel suo bellissimo libro suggerisce anche un altro aspetto, e cioè questa capacità leonardesca di creazione e creatività, che applica anche alla sua ultima residenza di Chambord, in Francia, progettando probabilmente una scala elicoidale che in realtà ancora esiste e che quindi dimostra come Leonardo si sia poi ben adattato alla nuova condizione di francese e sostenuto anche dal governo centrale, dal governo di Francia. Certo. Quindi il professore, diciamo così, ha approfondito non solo i rapporti Occidente e Oriente, ma anche proprio la vita e la storia e la realtà di Leonardo e quindi questo è estremamente importante, anche perché Leonardo è sempre un punto di riferimento fondamentale per la storia dell'arte e per la cultura in generale, per tutto quello che ha fatto, dalle fortificazioni, vero, agli aspetti strettamente scientifici, alle macchine belliche, all'anatomia, insomma, a mille altre cose oltre che... Ecco, anche se lui riteneva proprio che l'arte, cioè il disegno, fosse elemento fondamentale, anche la pittura fosse proprio scienza per Leonardo. E questo dice proprio il professore all'esordio del suo libro. Io ho avuto come professore all'università il professor Mariani, che appunto sosteneva con delle allora diapositive quasi in bianco e nero, color seppia diciamo meglio, ma veramente primitive per l'epoca perché era tanti anni fa e sosteneva appunto questo di Leonardo, questa pittura come scienza. Esatto, esatto. E quello che dice proprio nelle prime pagine il professor dice non è uno scienziato, non è un letterato, ma è un pittore. Sì. E sulla pittura costruisce tutte queste cose. È perché lui è convinto, infatti c'era anche la famosa disputa, no? Fra quale fosse la maggiore delle arti, che la pittura potesse invece dare una pienezza di vita. Vita sia in senso scientifico, sia in senso culturale, sia artistico, sia così via. Quindi veramente per lui era qualcosa... Noi poi nell'umanesimo, l'umanesimo e il rinascimento, la cultura è vista come un tutto unico. Siamo noi che abbiamo poi separato tutte le discipline, andiamo ancora separandole sempre di più e ci manca spesso la sintesi poi. Sì, sì, per noi anche questa è la natura, la stessa che fa parte integrante. Leonardo. È certo. Questo mi tocca, anche questo è come Hokusai che dipinto tanto, questo è un paesaggio, no? Doji ama tanto. Allora questo è molto la somiglienza di due grandi in Italia e anche in Giappone, no? Questo è io... Lei vibra con la natura in Leonardo, diciamo così, sente una vibrazione. Sì, sì, sì. Beh, anche noi occidentali però possiamo percepire qualcosa di diverso attraverso questo che è sempre stato considerato un po' il mistero di Leonardo, no? Sì, certo. C'è sempre un alone anche al di là degli aspetti rigorosamente scientifici però c'è anche questo alone di mistero, queste profondità, questi ammicamenti anche simbolici e così via che veramente lasciano, se uno contempla a lungo un'opera di Leonardo, qualunque essa sia, avverte che ci sono più strati di significato, che c'è una profondità, che c'è... E quindi anche con la natura c'è questo richiamo più profondo che il Giappone vive da sempre, insomma. Sì, sì, esatto. Questo è veramente una comunità artistica tra Giappone e anche Italia, no? C'è una grande comunicazione attraverso questo aspetto. Sì, aspetto. E soprattutto il nostro rinascimento, questo che colpisce di più. Sì, esatto. Da Monsignor Gian Giulio Rativo un cordiale saluto. Crocevia di bellezza. Un programma a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma. Questa è la Radio Vaticana, in diretta. Questa è la Radio Vaticana, in diretta. Un programma a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma. Questa è la Radio Vaticana, in diretta. Questa è la Radio Vaticana, in diretta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.